Musica Belle tutte scimmie volute, sono Rocciaco90 e siamo di nuovo qui nella scuola malefica Entriamo subito e facciamo lo start caricando il punto di salvataggio precedente E speriamo di aver capito come trovare il giusto indizio, la giusta porta Allora, per prima cosa vediamo quanto cibo abbiamo Ne abbiamo solo uno, quindi ne prendiamo almeno due Prendiamo la nostra monetina No, ho sbagliato, ridami Si è mangiata la moneta Allora, dobbiamo andare Qui Ah, è là, ok Ok, qui Possiamo aprire Dobbiamo andare verso giù Vada giù Quella porta maledetta non l'avevo vista, ragazzi Oh, è troppo buio È troppo buio Corri, 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 corri Oh, porca puttana Oh my god Mi sa che serve questo Si va bene, ciao, buongiorno, chi altro deve venire qui dentro? Ma dai, è impossibile giocare così, però Oh my god Guardate, come cavolo devo fare, scusatemi Ma secondo me c'è qualche bug, questo genito No è sparito Vabbè Prendiamo un po' di No, sta arrivando di nuovo Dai, devo prendere almeno due Ok Allora dov'è, è lì Infame Sì, ma io come faccio Assimilarlo, porca miseria Mi fa perdere altri minuti Vabbè Maledetto 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 Salta pure questo indemente nel saltare ok non è di qua dai entriamo in quella porta dobbiamo battere questo malefico allora mi sa che dobbiamo far riflettere la luce però non vedo luce ma dai non è possibile che vieni di nuovo cioè ragazzi oh è bugato il gioco e lui mi vede anche attraverso le pareti non lo so eccolo qui come cavolo non riesco a riflettere la luce ragazzi guardate come devo fare ok ora sta bruciando ah è piglia non brucia più abbiamo parte sì scusate ragazzi se sto facendo tutto sto macello ma quello non brucia ma che palle eccolo dai brucia dai va che sto andando bene adesso è sparito oh che cos'è che si è rotto non so perché sta lui che mi segue no vabbè ragazzi non ho parole dovrei rompere le palle anche quando lo semino questo lo devo togliere eh si infatti non mi fa però aspetta possiamo usare la la cassetta dove sta mi sa che l'ho lasciata anche nella stanza dell'altra volta vabbè seminiamo sto stronzo mi ha detto scusate le parole ma se le merda ciao buongiorno non ha fatto niente si è bucato anche lui finalmente ok io non so cosa fare adesso perché questo non mi impedisce di aiuto corri 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 non lo faccio più scusami allora facciamo così facciamo come prima saliamo in cima e poi ci buttiamo giù si trova dietro? si guardate se ogni volta devo perdere tempo con questo imbecille qua ma potevo dire io potevi fare un altro lavoro doveva vendere le banane no? dicevi il furtivendolo devo aspettare che salga e noi possiamo scendere da quella parte lì allora non lo sa già dove sono sto facendo finta di vedere sa già che sono qui ok andiamo di qua calma senza farci male e non scende sto mongoloide di qua ok andiamo di lì va a perdere sempre mezz'ora questo per farlo ok vedete ora posso funziona ah ok possiamo prendere l'ho presa si per aggiustare la il mangiannastro che stava dall'altra parte poi spegniamo allora dobbiamo andare ma nella camera gialla no mi sa che era qui non mi ricordo ragazzi ma qui manca qualcosa un documento una nota class data ok va bene qui che cos'è? oh il pentagono qui? the dark river spagni buongiorno madonna aspetta non mi ha visto non mi ha visto non è entrato non ci credo che non è entrato ma mi sta aspettando fuori adesso non lo sento arrivare questo personaggio che non salta vabbè ok io devo trovare la stanza dove c'era una volta il non mi ricordo più mi sa sopra entrare qui dentro mi sa che era da queste porte non mi ricordo ragazzi qui mi sa si eccola così possiamo place the belt normally normally no idiota allora mettiamo la cassetta mettiamo l'audio cassetta qui dentro facciamo un play ancora questi urla oh my god che cosa è sta cosa the cry of the flag io ho cercato il segreto oh my god allora questa scuola è retta non mi ricordo più ok della gente innocente è morta così furono degli scudi degli scudi ecco come si chiama gli amuleti ragazzi ci sono gli amuleti 5 amuleti per ogni zona della magari è un fantasma quello io sto pensando che oh my god una teoria di ossessioni di posizione mi sa ok che cosa è questo no il potere dallo scudo rimane limitato gli spiriti danno il potere mi sa gli spiriti affamati cercano di rompere lo scudo ok abbiamo avuto la chiave blu ragazzi ora però direi di salvare 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 salviamo ragazzi no non è qui oh la no era qui mi sa no siamo al secondo piano si eccolo qui salviamo molto importante salvare ok andiamo a vedere la mappa ok sa che si trova qui la stanza blu da eccola qui lo voglio datemi la luce ok non è qui ecco equipaggiamo la chiave blu eccola qui e apri accendiamo la luce dove ci troviamo oh cavolo oh cavolo ci mancava ancora ragazzi ci mancava tanto ok qui dai fai il bravo ok così mi piace chiudi la porta bravo bravo mi ha sentito ah ma fa le finte ragazzi apri di nuovo le porte vai via dai ma guarda poi ditemi se non è una cosa normale sta cosa mo la apro di nuovo beh puzza via dai via via delle palle vai via delle palle dai ti prego oh cavolo non dire che è entrato beh dai vai via che devo continuare il mio let's play per favore se no annoio tutti vediamo un po' il paesaggio qui fuori oh ehi mi fa prendere delle gocce questo di nuovo ma te ne vuoi andare non c'è nessuno qui e se hai controllato tutto fino alla fine mi scoverà sono sicuro e che palle oh my god se questo non va via io lo sparo in bocca dai che palle vai via 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 vai via 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 ok scrivani, oh c'è una nota World Time in the light 19th century Meridian passes Griewicz GTS, Washington and Benjamin if it is 2 am in Griewicz, it is 11 pm in Washington and 10 am in Benjamin ok bene sarà un altro puzzle sicuramente ops, cos'è qui? Gringy Astronaut, ok, quindi qui abbiamo Meridian no, è un altro puzzle, non ho capito cos'è ok ragazzi, qui siamo di fronte a un altro puzzle praticamente dovremmo settare gli orologi di tutte le stanze perchè mi ricordo che c'erano delle immagini di luoghi famosi e dovremmo mettere i fuso orari di ogni luogo in corrispondenza di quello di Griewicz quindi qua abbiamo le due come dice la nota, penso che sia così allora, vediamo qui dove l'ho messo? nota un diario dove aprire, ok World Time quindi dice che vabbè, nello scorso nell'ultimo XIX secolo vabbè, lo sa, avete capito la Meridiana che passa a Griewicz in England fu decisa come fu decisa hanno deciso che fosse la prima Meridiana quando la prima Meridiana che passa attraverso Griewicz si muove di 15 gradi penso a est e a ovest si decide un'ora che si potrebbe che si deve aggiungere come molti nel mondo un GMT cioè sarà uno spostamento un Griewicz standard cioè un'unità di Griewicz standard è usato quindi allora se a Griewicz saranno le no aspetta sarà differente calcolare i Griewicz Meridiana in Time in Washington e in Benjamin per esempio se sono le due a Griewicz ci saranno le 11 a Washington e le 10 di mattina a Benjamin quindi due Washington sono due di mattina fino al pomeriggio vuol dire che sono 7 24 meno 7 sono 17 ore di cioè 17 si deve contare 17 più invece qua si contano 8 più ok sarà un baciello ragazzi come se troviamo qualche soldino non so se mi sono stato sono mi sono no beh ragazzi penso che io chiudo qui anzi dovevo andare a salvare allora di qui ok io salvo ragazzi e mi fermo qui ci vediamo alla prossima io sono rocciac90 commentate mettete un mi piace al video e iscrivetevi per i nuovi ci sentiamo al prossimo episodio ciao ciao